Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Esempi Sacri, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Gli esempi rari ci dovrebbero insegnare degli elementi austeri per poter comprendere appunto i valori della vita. Quindi se prendiamo l'esempio della vita di qualche santo, possiamo capire che c'è profondità, passione, intensità, continuità, salita verso l'alto e valori grandiosi da emulare ed evidenziare. Quindi gli esempi sacri ci sapranno insegnare la vita, ci sapranno donare appunto l'intento per realizzare buone opere, per poter così creare delle solide contise. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Esempi Sacri. Gli esempi rari ci dovrebbero insegnare gli elementi austeri per poter comprendere. Gli esempi sacri ci sapranno insegnare gli elementi rari da dover emulare. La vita è fatta di buone opere ed è resa compatta dalle solide contise. Bisognerebbe capire come agire con correttezza per poter crescere nella limpida fierezza. Grazie e condividete.